Si dice che nella storia del parroco Morgera di Casa Micciola, anche c'era questo, che alcune persone criticavano questo parroco perché frequentava una donna e pensando che fosse una prostituta che andasse dal parroco a fare coltive. Poi invece fu scoperto che il parroco nascondeva sotto il vestito lardo, formaggio, pasto, quelle che sia e la dava a questa donna che era vedova appunto per poterla aiutare. Vedete la gente come facilmente scambia i ruoli e allora perché questo parroco l'ha aiutato? Perché era una vedova, se la vedo si metteva in scone e a chiedere, quando andava a chiedere che figura avrebbe fatto, oggi c'è anche la possibilità di lavorare e quindi anche i proprietari, quelli che danno lavoro a queste persone non devono approfittare di quella donna, perché la mamma, te ne hai figli a casa, come dice te ne hai figli e che sta femmina si lascia a famiglia e la mamma manca nel cuore dei figli durante la giornata, logicamente non puoi approfittare del lavoro di quella donna, ci devi dare quello che ci devi dare, a un certo punto puoi pure acchiappare con poche robe, dice signor a chi ha questo po' che mangiare, portatele ai figli tuoi, questa è una bella bistecca, da mangiare ai figli tuoi, basta che mangiano, serve certamente un bel gesto, però stiamoci attenti a voi vedove, voi facete aprire quelle sigarette a mucca, che quando parliamo di quelle sigarette a mucca nessuno vi aiutò. Pensate anche durante il tempo di guerra, quanti negozianti tu facevi credito e poi dopo quando vendevo vino si andava a pagare, quanti questa gente allungava la lista sotto là, tu hai segnato per esempio fino a una certa cifra e loro ci aggiungevano un riestato sotto qualcuno di loro e quando vedevi che tu non potevi più, ma la più piazza di terra, o meglio piazza di terra che c'è sta, ma dalla casa. Cari amici noi teniamo uno spettacolo qui a Forio ed è un palazzo, c'è pure una piazza di terra però non vi faccio un nome, una persona che è passata per onesta eccetera eccetera, però una bella onesta, una bella piazza di terra che si è fregata a danno di uno zio, non vi dico chi. Allora, questo palazzo c'erano due vecchietti, mi pare che erano da un tabaccaio, i quali non è che erano molto ricchi e allora c'era un uomo, non vi faccio i nomi, che ci portava un po' di latte, ci portava un po' di pane, a un certo punto disse tutto quello che vi ho dato supera il valore della casa, quindi mai darà a questa casa. Ci fa l'ordine di sfratto, logicamente dalla legge, ci fa l'ordine di sfratto e questa persona a un certo punto va a prendere possesso della casa. Sto bicchiariello, mentre scendero un coppio di un lettino giù per le scale, buttò una bestemmia. Disse, con il sangue all'occhio, ti è che non hai la stemma, andacchi questo puzzo, deve cogliere solo sangue. E poi non mi dice, fuori dalla casa, non ho paretina. Cari amici, questo che ci avevi dato lo sfratto, teneva la carrozza con il cavallo. Arrivai mezzo il pontone, si impenna il cavallo, comincia a correre sfrenatamente e dove stava il piazzale maltese, là c'era un muro con un cancello e il cavallo andò a finire là dentro, si sfratisava il cavallo, la carrozza, c'era male pure il padrone. E i figli sono diventati tutti quanti pazzi e qualcuno anche ammalati di sifilide. Un discendente di questo signore, che era un mio collega borghese però, mi disse a Tom Pascati, giuro, se un domani io avrò quella casa, non voglio neppure una pietra, che là c'è sta negli astemangop. Purtroppo questa amica è morta e la casa sta ancora là, disabitata. Perché vedete, anche noi tante volte, quando vengono soprattutto i sacerdoti forestieri a predicare, quante volte padre, Ambro Carmo, come si scioglie, come la neva al sole, che belle parole, padre, che bello figlio è entrato, scusate. Allora, che devo fare per avere la vita eterna? Che devo fare per andare in paradiso? C'è con la camicia e con gli zoccoli e la camicia, come diciamo nel nostro dialetto. Amici miei, ma c'è bisogno che viene il prete da fuori, come il prete in coppa all'altare per dirvi certe cose. Noi non ci rendiamo conto che la nostra vita è uno scambio di amore, è uno scambio di cortesia, è uno scambio di felicità che noi diamo agli altri e gli altri trasmettano a noi, questa è la vita. E allora è inutile che ci aspettiamo dagli altri che ci vengono a dire qualche cosa di straordinario. Dio è amore e se noi siamo figli di Dio, non siamo figli di entrocce, che cosa succede? Se sei figlio di Dio e Dio è amore, tu sei figlio dell'amore. Cioè mi spiego, voi prendete una pianta, questa pianta, stanno piante di limone, arance, mandarine, quelle che sia, e la innestate su un tronco salvatico. Quando avviene questo innesto, o a spacco, o a ucchieti, o a zufolo, o a penna, eccetera, quando voi fate questo innesto, dopo quel tronchetto, quel rametto, formerà una sola cosa con quell'alberello. Se prima era limone e tu ci hai innestato un arancio, porterà frutti di arancio. Allora che cosa è successo? Tu hai preso da un albero che era arancio, la puca, cioè il zametto, e l'hai innestato in questo altro albero, che è diventato una pianta di arancio. Se era limone, sarebbe diventato limone, se era pompelmo, diventavo pompelmo. E allora, che cosa voglio dire con questo esempio? Se tu prendi da Dio, perché sei figlio di Dio, e Dio è amore, Dio ti ha dato amore, ti ha creato per amore e ti ha fatto diventare amore. E allora l'amore non è che la parola che noi diciamo, perché oggi tutto è amore, quante belle parole che sappiamo usare, perché la parola amore come te la sappiamo abbastare con tutti i colori, eccetera, eccetera, ma anche se io stessi facendo le zeppole, è chiaro, quella parola è amore. L'amore che cos'è? È rendere felice una persona, starci vicino con l'affetto, starci vicino con il cuore, starci vicino con i consigli, aiutarli nel momento opportuno, cioè sentire che la persona è come se fosse una parte del tuo cuore, perché se noi siamo figli di Dio e Dio è amore, siamo tutti figli dell'amore, siamo tutti figli di questo stesso innesto preso dal cuore di Dio, siamo tutti queste puche e diventiamo tutto quanto l'immagine dell'amore di Dio. E allora c'è il buonismo che convince, c'è il buonismo che convince, non è che andiamo appescatando le cose, il cristiano se è amore deve diventare amore, cioè nella traduzione pratica della vita, aiutando gli altri, non è che caccioli mi scannano l'uno col l'altro, vedete quanta indifferenza che c'è sta, e l'indifferenza non serve a niente, non è amore l'indifferenza, ma piuttosto un senso di curiosità, quante volte, mamma mia, va bene, fammi sapere con me che è successo, e tu ascolta bello e beatamente, tu pensi che dopo che hai raccontato i guai tuoi, che questa persona deve essere un consiglio, deve essere un aiuto, tu invece, ah mamma mia haci pazienza, non haci pazienza, non mi metti a me a mezzo, non mi metti a me in mezzo, perché è poca, e allora che si è stato qua a perderti e abbastanza a fare, perché noi siamo quelli attraverso invece, se tu veramente ami, hai ascoltato e dammi un consiglio, dammi la mano, ma solo a che cosa serve?